Sì, è stata una partita dura, ce l'abbiamo messa tutta, era la terza partita in una settimana. Un campo difficile questo, anche perché è comunque un terreno sintetico, loro è una squadra aggressiva. Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo potuto, abbiamo attaccato, abbiamo cercato di vincere la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti, però penso che abbiamo fatto una partita volenterosa, ci è mancato un pizzico di cattiveria in più per fare il secondo gol, ma era una partita che sicuramente meritavamo di vincere. Sì, sicuramente, questa è una squadra con... Io appena sono arrivato sono rimasto impressionato da quanta qualità c'è, sinceramente secondo me ci vuole un po' di tempo, perché comunque è una squadra nuova, anche l'allenatore è arrivato quest'anno, però ci sono delle enormi potenzialità secondo me.